Il corso di dottorato in scienze veterinari e quest'anno ne offre una posizione per un progetto di ricerca sull'applicazione dell'ecografia in medicina veterinaria. L'ecografia è una metodica di diagnostica per immagini di fondamentale importanza sia nella clinica degli animali da reddito sia nella clinica degli animali da compagnia. Tuttavia, molte potenziali applicazioni di questa metodica restano inesplorate o poco conosciute, pertanto c'è ancora molto spazio per la ricerca. Le nostre aree di ricerca riguardano in modo particolare l'applicazione dell'ecografia allo studio delle patologie di interesse internistico. Il dottorando quindi sarà chiamato a svolgere attività che in larga misura saranno attività di tipo pratico applicativo con l'uso dell'ecografia in campo clinico. La figura richiesta pertanto è quella di un veterinario con un forte interesse per la clinica con particolare riferimento alla medicina interna veterinaria. Grazie.